Vediamo come creare un nuovo instrument per iXS24 utilizzando tre campioni di basso. Apriamo l'editor di iXS24. E dal menu Zone andiamo ad importare i samples utilizzando la funzione Load Multiple Samples. Andiamo nella cartella adeguata e selezioniamo questi tre samples, importandoli premendo il pulsante in successione. Questa volta utilizziamo il criterio di sistemazione AutoMap che analizzerà l'header del file, interpretandone le informazioni sull'intonazione, se presenti, permettendo una sistemazione automatica dei samples lungo tutta l'estensione della tastiera in modo corretto. Facciamo OK. Come possiamo vedere, Logica ha creato automaticamente le estensioni di ogni samples facendolo nel modo più adeguato, ovvero tenendo più o meno centrata la nota originale rispetto al range scelto. Ovviamente, avendo caricato solo tre samples, quelli più esterni sono stati estesi al massimo per coprire tutta la tastiera. Il basso elettrico, però, non ha certo tutta l'estensione di un pianoforte, quindi per evitare note troppo gravi fuori registro, possiamo modificare l'estensione manualmente in questo modo. I campioni suonano già. Sentiamo. In questo caso, il parametro Velocity Range non ci interessa, in quanto abbiamo un campionamento ad una sola dinamica. Pitch non dovrà essere disattivato, e anche One Shot non ci servirà, in quanto il suono deve poter essere interrotto al rilascio del tasto. Prendiamo invece in esame una funzione che ancora non abbiamo visto. La funzione Loop. Spesso nei suoni non percussivi è facile trovare questa funzione già attivata, perché permette di mettere in loop una determinata porzione del file, generalmente la parte finale, per far sì che il suono, se si tiene premuta la nota, sia prolungato all'infinito. Questo ci consente anche di realizzare campionamenti più corti. In questo momento, il nostro suono, se si tiene la nota, ad un certo punto smetterà di suonare. Attiviamo quindi il loop. Faremo l'esempio su questo sample, ma ovviamente anche gli altri, in un secondo tempo, dovranno essere messi in loop. Per ottenere un loop più preciso, è preferibile lavorare nell'editor di Logic, quindi entriamo nel sample editor. Ridimensioniamo la visualizzazione per analizzare l'andamento del campione. È importante farlo, per individuare la zona migliore per cercare il punto di loop. È infatti indispensabile che la parte che andremo a mettere in loop sia molto simile di dinamica e volume. In questo caso andremo a fare il loop nella parte finale. Quindi trasciniamo il punto start verso la zona individuata. Allarghiamo la visualizzazione per vedere meglio la forma d'onda. Come potete vedere, l'inizio coincide con un punto a zero. Questo perché in modalità predefinita, Logic, ad ogni spostamento, posiziona il locatore al punto zero più vicino. Questo ci aiuta nel far coincidere i punti start ed end nel migliore dei modi, senza che si sentano rumori evidenti ad ogni loop. Ora andiamo a vedere il punto end del loop, che per il momento coincide anche con la fine del sample. Come potete vedere, il campione termina con la forma d'onda troncata, e non sullo zero. Pertanto, certamente, sentiremo un rumore. Modifichiamo il punto end. E sentiamo se ora il loop è migliorato. Direi che possiamo ritenerci soddisfatti. Anche se, perdendoci un po' più di tempo, avremmo certamente trovato un punto migliore che magari ci permetteva anche di avere un loop più ampio, quindi meno evidente, se non impercettibile. Nel caso in cui non si riescano a trovare due punti perfettamente combacianti, come nel caso precedente, per ridurre al massimo eventuali rumori, possiamo utilizzare il parametro crossfade. Sentiamo. Senz'altro meglio il punto end precedente, ma è molto migliorato. Spesso questo parametro risulta essere risolutore. Ripristiniamo il loop precedente. Sentiamo ancora. Ora che abbiamo i nostri samples programmati con tanto di loop, impreziosiamo il nostro instrument andando nella sezione riguardante i gruppi, facendo uso del parametro select group by, che abbiamo già analizzato nella lezione 3. Apriamo un altro EXS24. e carichiamo un instrument di basso slap. Ora entriamo nella finestra editor. Selezioniamo tutti i samples e con un semplice drag and drop li trasciniamo nell'altro instrument. Ora nel gruppo Bass Finger attiviamo la funzione select group by scegliendo un evento di control, precisamente il numero 1 corrispondente alla modulation wheel. Il range lo lasciamo impostato a 0. Negli altri gruppi invece il range lo lasciamo impostato a 0. impostiamo sempre il control 1 ma come range definiamo 1,127. Prima di sentire il risultato disattiviamo la modulazione sull'intonazione. In questo modo quando la modulation wheel è a 0 suona il basso finger mentre alzandola entra in azione il basso slap. In pratica sono due livelli richiamati attraverso un controllo. Ricordiamo che utilizzando la funzione key release è possibile assegnare un sample che riproduca il suono della corda quando questa viene lasciata dalle dita come già è stato fatto nei gruppi del suono slap. Ascoltiamo questa esecuzione di basso nella quale vi sono entrambi i suoni comandati da una semplice programmazione della modulation wheel. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.